Ai più importanti fondi di investimento internazionali fanno gola le logistiche dell'area di Broni e Stradella. Dopo importanti acquisizioni nell'area di Stradella, infatti, anche Broni si è perfezionata nelle scorse ore la vendita dell'ACNO Broni 6 Business Park, a quello che al momento viene indicato solo come un primario fondo internazionale. In una nota della società, secondo cui nell'oltrepo orientale si è creato negli ultimi anni uno dei più importanti poli di riferimento per le principali aziende della logistica, proprio di fronte all'autostrada A21 Torino-Piacenza, dopo altri casi di successo, spiega ancora la società fondata nel 1971, si consolida la strategia del gruppo che vede l'edificazione di business parks negli snodi logistici più importanti del nord Italia. Questa vendita, secondo quanto riferito ancora dalla società, confermerebbe il grande interesse che oggi il mercato logistico italiano per gli investitori internazionali e quella di Broni e Stradella si conferma un'area in forte crescita.